Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo nuovo video e sul mio canale. Oggi andremo a vedere cosa porterà il transito di Venere in Leone per tutti e 12 i segni zodiacali. Io faccio questo breve video intro che vedrete per tutti i segni e andremo a vedere nello specifico cosa ci sarà per ogni segno di acqua, di terra, di aria e di fuoco. Vi ricordo che sono sempre degli interattivi e perciò li dovete prendere come tali. Vi ricordo pure segno per segno potete riconoscere il vostro segno, il vostro ascendente oppure il segno che era nella luna al momento della nascita. Questo lo potete. Andremo appunto a vedere segno per segno che cosa porterà questa Venere in Leone. Allora, come sempre vi ricordo che sotto ogni mio video trovate i miei contatti qualora voleste parlare privatamente con me e trovate anche l'indirizzo del sito dove potete visionare ed eventualmente acquistare tutti i mazzi di carte che io ho creato. Iniziamo adesso con il primo segno. Andremo in ordine come è ordine dello zodiaco e iniziamo con i nostri 12 segni. Ciao a tutti amici dello scorpione, eccoci qua con il vostro video per vedere cosa vi porta a Venere in Leone. Appunto vediamo che cosa c'è per i nostri amici dello scorpione in questo transito di Venere in Leone. Andiamo subito a vedere qual è l'energia principale per i nostri amici. Con la coda avvelenata, i nostri amici dello scorpione, vediamo che cosa hanno. I nostri pungenti amici dello scorpione. Vediamo un po' che energia generale abbiamo. Allora, andiamo a vedere. Amici dello scorpione. Oh, il 10 di azione. Stai lavorando troppo. Gli angeli ti chiedono di trovare un sano equilibrio tra lavoro e vita personale. Sei disposto a chiedere aiuto agli altri per alleggerire il tuo carico e darti la possibilità di prenderti meglio cura di te stesso. Fare di tutto per rendere felici gli altri e restare senza forze può essere dannoso per la tua salute. Allora, i nostri amici dello scorpione hanno un periodo un po' di stanchezza o hanno un periodo un po' stancante che potrebbe riguardare sia una situazione lavorativa ma anche una situazione personale o proprio una condizione di magari rapporti con gli altri o rapporti con la persona che si ha accanto. Sicuramente i nostri amici dello scorpione iniziano questo transito con un po' di stanchezza accumulata. C'è bisogno di riposare, c'è bisogno di ritrovare l'equilibrio e c'è anche bisogno di chiedere magari aiuto a qualcuno per alleggerire il carico lavorativo o magari semplicemente uscire con un amico e sfogarsi per alleggerire quelli che sono dei pensieri che a lungo andare ci possono anche stancare. Allora, vediamo di dividere i nostri mazzetti come sempre in modo da poter scegliere. Allora, uno già si è girato, vediamo cosa abbiamo. Riavvicinamento. Ecco, ci potrebbe essere il riavvicinamento a qualche amico, a qualche amica che vi può aiutare. Il riavvicinamento magari a una situazione più calma, più tranquilla. Il controllo, vedete, avete bisogno di controllare. Avete bisogno di controllare quello che è questo momento troppo carico di responsabilità. Anche voi la carta dell'inganno. Ecco, perché la carta dell'inganno? L'inganno viene semplicemente perché voi pensate di dover controllare tutto, voi pensate di dover fare tutto voi, cercate sempre di controllare che tutto sia fatto in modo che non ci siano dei problemi, che non ci siano delle problematiche, però voi dovete riavvicinarvi un po' di più a quella che è una situazione tranquilla. La carta del controllo, in questo caso, significa controllare meglio quello che voi andate a fare. Non fatevi ingannare da quella che è una illusione di troppo sovraccarico di pensieri, di lavoro o di situazioni con la persona che avete accanto. Avete bisogno di riavvicinarvi a voi stessi, di prendere il controllo della situazione e soprattutto cercate di delegare quello che potete delegare. Se voi potete delegare a qualcuno una cosa che potete fare voi, che dovete fare voi oggi, fatelo. Prendetevi quel po' di tempo per magari riavvicinarvi a un amico, a un'amica, passare un weekend fuori casa, passare un weekend lontano dalla pesantezza magari di un problema o di una situazione lavorativa che vi sta opprimendo. Qui abbiamo un inganno della mente, un inganno della mente che va preso come tale, va preso come una situazione da dover gestire in modo diverso. Dovete imparare a gestire questo momento diversamente da una sorta di ostinazione nel voler fare tutto voi e soprattutto tutto subito e bene. Ci possono essere anche dei tempi che potete dilungare. Ecco, se potete dilungare una determinata situazione fatelo, se potete allontanare questi pensieri fatelo perché ne gioverà soprattutto alla vostra salute psicologica. Vediamo cosa abbiamo qui. Vedete giudice, esame, controversia, litigio, attriti, incomprensione, problemi legali, prudenza, ricerca di una soluzione. Questo è il vostro momento, un momento troppo sovraccarico di situazioni che dovete gestire, situazioni che dovete mettere in cantiere e soprattutto nella vostra mente risolvere il prima possibile. Abbiamo la carta della consultante. Se siete una donna, questa stesa è rivolta a voi. Se siete un uomo, tutto questo sovraccarico potrebbe essere legato a una donna. Magari, non lo so, una parente oppure la persona che avete accanto vi sta troppo sovraccaricando di pensieri che non vi fanno stare tranquillo. E poi abbiamo l'ancora. Fortuna, solidità, sicurezza, progresso, recupero, buon esito di una domanda speranza. C'è la possibilità di recuperare un po' di tranquillità, un po' di serenità, ma dovete assolutissimamente staccare i pensieri, staccare i pensieri, staccare da questo controllo che volete per forza avere su tutto e volete fare al meglio. C'è un sovraccarico soprattutto di pensieri, magari ci sono delle controversie, nel senso che magari voi avete progettato una giornata in un certo modo, non so, avete progettato di starvene a casa in pantofoli tutta la giornata ed ecco che tac, arriva una chiamata che vi porta a dover sbrigare delle situazioni, delle cose che magari non sono neanche vostre, ma sono di qualcuno che vi è caro e di conseguenza dovete per forza, scusate, la solita carta che cade. Appunto dicevamo potrebbe anche essere una situazione che non riguarda voi stessi, ma riguarda un qualcuno che vi è caro e purtroppo non potendo dire di no, vi sovraccaricate anche quel pensiero e quelle problematiche. Vediamo un po' a livello di emozioni che cosa abbiamo per gli scorpioni. Allora, vediamo, abbiamo lentezza, movimenti lenti, tergiversare, temporeggiare, rimandare una decisione, rimandare una decisione nel pensare un po' a voi stessi. Anche questo mi viene da dire, cioè lentezza proprio nel riuscire a scrollarvi queste situazioni pesanti, nel riuscire magari a dire no, non posso venire, nel riuscire a voler controllare, voler riuscire a fare tutto più che altro, ecco. E c'è una lentezza nel proprio liberarvi da questa situazione pesante. E di conseguenza abbiamo questo 10 di azione che vi porta sempre a muovervi, sempre a muovervi però contemporaneamente anche a stancarvi. Vediamo qual è il consiglio che vi danno le mie carte per quanto riguarda gli amici dello scorpione. Vediamo che consiglio ci danno questo bellissimo mazzo che potete visionare all'indirizzo che trovate sotto ogni mio video. Vediamo un po'. Qua mi porta un bel cambiamento, ma un cambiamento che dovete attuare semplicemente voi. Magari dopo un lungo periodo di questa sorta di stanchezza, magari veramente vi siete stancati e dite un po' basta e cominciate anche a dire di noia, a pensare un po' a voi stessi. Allora, vediamo cosa ci dice la mia carta. Il perdono non si nega a nessuno, ma la fiducia non si recupera più. Qui, secondo me, è che il perdono viene inteso come favore. Nel senso, un favore non si nega a nessuno, ma la fiducia intesa come recuperare un po' di energia non si recupera più. Nel senso, una volta che voi vi siete talmente stancati, talmente devastati, è difficile rientrare nelle proprie forze e fare quello che vi piace, perché appunto avete sprecato tutte le energie attraverso delle situazioni che non vi appartengono direttamente, ma sono sempre delle situazioni che vengono dall'esterno. Amici dello Scorpione, questo è il vostro passaggio di Venere in Leone. Io vi consiglio di iniziare a dire ogni tanto no e di pensare a voi stessi. Con questo io vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo i miei contatti qualora voleste parlare con me e ci vediamo al prossimo video.